Da qui a un paio di settimane contiamo di inaugurare il nuovo bocciodromo e negli ultimi periodi abbiamo pensato a una struttura bar staccata rispetto all'impianto sportivo, che non vuol dire che rimane all'interno della struttura ma ci sarà la possibilità di accedere anche dall'esterno e con una fascia oraria decisamente più ampia rispetto all'attività delle bocce. Perché questo? Perché abbiamo una caserma che non ha un bar interno, abbiamo un'area camper da valorizzare, c'è il parcheggio sempre pieno di personale sanitario o familiari che vanno a trovare i propri cari. Abbiamo quest'area skate, park, palm track e a breve presenteremo il progetto anche del parkour, quindi un servizio, quello del bar con un accesso indipendente rispetto al bocciodromo, che in qualche modo riuscirà a soddisfare le esigenze di chi vorrà vivere quest'area che fino a pochi mesi fa non aveva praticamente nessuno. Noi abbiamo preso questa decisione per dare un servizio in più alla città, non certo per fare favore a qualcuno. Il servizio di attività economica sta sviluppando il bando, poi ci sarà l'assegnazione per quello che riguarda gli assessorati e le opere pubbliche. Noi siamo pronti per inaugurare il bar e quindi contiamo nel giro, ripeto, di un paio di settimane, due o tre settimane, di inaugurare il bocciodromo e contestualmente anche capire chi sarà il nuovo gestore del bar. In questa delibera in effetti si cambia la destinazione dell'immobile da servizi ricreativi a un'attività commerciale privata che è un bar. Di fatto il progetto nasce con la realizzazione di un nuovo edificio che vedeva come attività principale il bocciodromo e a servizio un piccolo baretto. Invece adesso ci troviamo di fatto due attività distinte dove a breve si farà un bando che chi prenderà il bar potrà gestirlo in tutta autonomia. Per noi con questo passo si vincola il futuro bando che non è fatto in libera concorrenza perché chi parteciperà per il bocciodromo di fatto si troverà a non avere il bar a disposizione. Quindi o alla gara parteciperà un amico o un cognato o un fratello di quello che prende attualmente il bar o non si sa chi abbia la convenienza a prendere il bocciodromo. E poi noi contestiamo anche la temporaneità dell'affidamento in convenzione di questo bar perché temporaneo sette anni che è più di un contratto normale del commercio ci sembra assurdo. Quindi noi abbiamo votato contro e non siamo favorevoli a questo passaggio che l'amministrazione PD ha fatto.